Quest'anno abbiamo modificato il regolamento del premio letterario città di Erice che quest'anno è arrivato alla sesta edizione e che si svolge come di consueto sempre ad Ericevetta. La premiazione si svolge l'ultima domenica di agosto a Erice ma quest'anno c'è una novità perché questo premio letterario che sta riscuotendo devo dire sempre più consensi anche non soltanto nella nostra regione ma anche fuori dalla regione abbiamo deciso di aprire questo premio anche ai giovani e in particolare agli studenti delle scuole. Abbiamo coinvolto tre scuole del territorio il liceo linguistico Rosina Salvo, il liceo classico e scientifico Ximenez Fardella e anche il liceo ovviamente enogastronomico di Ericevetta Ignazio Florio e con loro stiamo avviando, abbiamo avviato già questo progetto per portare il libro e la scrittura, la lettura all'interno delle scuole. I ragazzi saranno coinvolti direttamente perché formeranno una giuria, leggeranno dei romanzi brevi e dei racconti che abbiamo selezionato, che un comitato ristretto ha selezionato e così loro potranno decretare il vincitore, l'autore vincitore del premio letterario giovani che naturalmente sarà affiancato al premio letterario tradizionale, chiamiamolo così, che quest'anno si arricchirà dell'importante contributo del presidente del premio che è la francesista e giornalista a Daria Gallateria.